decidiamo di cambiare esca e diamo fiducia a un bel sugarello il sugarello è molto vitale e il suo nuoto sembra molto naturale grazie alla velocità di traina che sembra perfetta il sugarello aumenta la sua velocità e dallo sfondo arriva un bel dentice che lo attacca è un bel pesce ma sto sentendo che sta scontrando su una secca e quindi devo gestire un po con attenzione eccolo qua che viene a galla grazie